Infortunio KME, folla per l'addio a Nicola Corti, partecipazione e commozione a Barga per l'ultimo saluto all'operaio morto a causa di un infortunio sul lavoro. Riapre Palazzo Guinigi, mostre con vista sulla città dopo i lavori di restauro, riaperta la dimora della celebre famiglia lucchese che diventerà uno spazio espositivo. Una marcia in più sbarca a Capannori, si è svolta nella piana la passeggiata accessibile promossa dall'associazione Lucca Senza Barriere. Sport 119 anni di gioie e dolori, buon compleanno lucchese, la Libertas 1905 festeggia la data della sua fondazione circondata dall'affetto dei suoi encomiabili tifosi. Dal Port Elisa all'Ajax, la grande ascesa di Farioli, il 35enne ex allenatore dei portieri rossoneri e barghigiano di nascita, è il primo allenatore italiano dei lanceri di Amsterdam. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG In Noi. Come avete sentito dai titoli, iniziamo da Barga e dai funerali, dall'ultimo saluto a Nicola Corti, l'operaio morto a seguito di un infortunio sul lavoro alla KME di Fornaci di Barga. Oggi tanta gente all'ultimo addio a Nicola. Tutta Barga, racchiusa in un silenzioso e forte dolore, ha reso l'ultimo saluto a Nicola Corti, l'operaio barghigiano di 50 anni, rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nei giorni scorsi alla KME di Fornaci. Non un sabato qualunque, quello vissuto nella cittadina, dove il solito scorrere della vita del giorno prefestivo e di mercato, non è riuscito a rendere meno greve l'atmosfera cupa, con i volti tristi e con il dolore delle tantissime persone che hanno preso parte al suo funerale, svoltosi all'esterno della chiesa del Sacro Cuore. Gente di Barga, amici, colleghi di lavoro, sindacalisti e dirigenti della fabbrica di Fornaci, tutti lì per l'ultimo maggio a Nicola, rinchiuso in quella bara, sormottata da rose rosse, dalla sciarpa e dai palloncini bianchi e azzurri, ricordo della sua fede calcistica per la Lazio. Della metallurgica c'era il presidente del gruppo KME, Vincenzo Manes, la vicepresidente Ediva Moriani, il direttore generale operativo per il sud Europa, Michele Manfredi, il direttore dello stabilimento Manuele Fanucci, nutrita anche la presenza dei sindacalisti di Wilm, Fium e Fim, c'era la sindaca del comune di Barga Caterina Campani, ma soprattutto c'erano i tanti amici barghigiani di Nicola, che si sono ritrovati attorno alla moglie Rachele, alla bimba Giorgia, alla mamma Antonia, che hanno abbracciato tutti sempre con un sorriso. Uno striscione lungo la strada riportava questa scritta, omaggio degli amici che con lui negli anni Ottanta avevano condiviso la passione per la musica, sfociata in due gruppi musicali e che così lo chiamavano. Dunque ciao leader, ciao Nicola. La cronaca. Nel pomeriggio i vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo sono intervenuti a Gallicano per la caduta di un traliccio in disuso della media tensione, sul posto anche i carabinieri di Coreglia. L'allarme è stato dato da una famiglia che abita vicino allarmata dal frastuono. I vigili del fuoco hanno verificato che la caduta non provoca comunque alcuna criticità, adesso però ci sarà da rimuovere e smaltire la struttura. Andiamo a Lucca adesso per la riapertura al pubblico di Palazzo Guinigi, in centro storico. Dopo i lavori di restauro riapre al pubblico Palazzo Guinigi, storica dimora della celebre famiglia lucchese, che ospiterà mostre permanenti e temporanee e punta a diventare una delle maggiori attrazioni turistiche in centro. Al taglio del nastro con il sindaco Mario Pardini era presente anche il governatore della Toscana, Eugenio Gianni. Il contributo della regione è stato rilevante per il recupero di gran parte dell'imponente struttura, che conta 54 stanze complessive. Il recupero del palazzo è consistito nel completamento di alcune porzioni che erano rimaste completamente da restaurare, in particolare il piano terra, il piano interrato, il giardino e il piano primo. L'importo complessivo dell'opera è a monto a 1.4 milioni di cui 910 mila euro con i fondi Fesre della regione toscana e gli altri dell'amministrazione comunale. Tra le novità più rilevanti c'è il recupero e l'apertura del giardino, liberamente accessibile dal percorso pedonale di collegamento tra via Guinigi e via delle chiavi d'oro. I lavori hanno riguardato anche il nuovo ingresso unificato di Palazzo e Torre Guinigi, che ospita la nuova biglietteria. Il vecchio ingresso della torre diventa invece l'uscita, dove è stato allestito anche un piccolo negozio. Il tutto è gestito da Metro SRL, nel suo ramo d'azienda dedicato alla gestione turistica. Questo è sicuramente il momento più importante della gestione turistica della città, con un accesso intorno a mille persone al giorno già adesso, da questo ingresso. Quello nuovo che andiamo a inaugurare proprio ora sicuramente sarà la celebrazione massima di questa gestione turistica. Infine, i lavori di restauro hanno permesso di riportare alla luce i resti di un importante fregio affrescato rinascimentale, ritrovato nella sala sopra la loggia del giardino, nella parte nord-est del complesso. Palazzo Guinigi diventa quindi un importante polo attrattivo, culturale e turistico. Andiamo a vedere le mostre che sono allestite subito all'apertura. Sono subito quattro le mostre ospitate dal rinnovato palazzo Guinigi a Lucca. Al piano terra c'è la mostra collettiva di pittura, omaggio a Giacomo Puccini. Al primo piano sono aperte le sale dedicate al Volto Santo e alla Via Francigena. Fanno parte del percorso museale permanente dedicato alla storia della città, tuttora in fase di progettazione, anche con il contributo finanziario della regione toscana. Più si sale, più gli spazi espositivi hanno come sfondo splendidi ed inediti panorami sulla città. Al secondo piano è stata allestita la mostra di costumi teatrali Le Opere di Giacomo Puccini attraverso i costumi dei suoi personaggi. Al terzo piano, infine, troviamo la mostra fotografica Riscoprendo l'arte in Lucca, omaggio a Maria Pacini Fazzi attraverso le foto dell'archivio fotografico Arnaldo Fazzi. Il Comune ha già programmato le altre esposizioni che saranno allestite nei prossimi mesi nelle stanze del palazzo. Nel 2024 ospiterà, oltre alle mostre dedicate a Puccini fino al 6 di giugno, anche la Biennale di Cartasia nel periodo estivo e la Biennale di Fotolux nel periodo autunno-inverno. E poi stiamo già programmando alle attività culturali per l'anno 2025. Cambiamo argomento e ci spostiamo nella piana di Lucca a Capannori, dove è stata organizzata per quest'anno una marcia in più, la passeggiata accessibile dell'organizzazione Lucca Senza Barriere. Prima volta a Capannori per la passeggiata accessibile, una marcia in più organizzata dall'associazione Lucca Senza Barriere. L'obiettivo, come sempre, è quello di promuovere una nuova visione degli eventi, della quotidianità e dello sport, una visione senza ostacoli né barriere che permetta proprio a tutti di vivere a pieno il territorio. Siamo soddisfatti, ringraziamo il Comune per aver accolto la nostra iniziativa, ringraziamo la Comandante della Polizia Municipale, la Misericordia, la Fondazione Banca del Monte e tutti gli altri, compresi gli sponsor, che ci hanno dato una mano perché questo si potesse realizzare. Quindi siamo veramente felici di essere approdati a Capannori con questa nuova iniziativa. La prossima sceglieremo un altro comune, sempre la provincia, e vedremo quali saranno poi i risultati. Comunque è già una vittoria. Presenti anche due testimonial dell'associazione. Il primo è l'atleta paralimpico Stefano Gori. Con Luca Senza Barriere ormai sono sei anni che collaboriamo insieme come testimonial dell'associazione e quindi che dirvi di più. Dovevate partecipare più enormi tutti quanti, chi potesse ascoltare il messaggio in televisione. È bello essere presente, peccato per chi non è presente, ma tanta gente stamani lo è. Quindi è un piacere per tutti, grazie a voi. Oltre a Gori, a sorpresa, è arrivata anche un'altra testimonial di Luca Senza Barriere, l'attrice e presentatrice Vania Della Bidia. L'associazione Luca Senza Barriere ha questo grande merito, questo bel pregio, che sono persone operative, persone che davvero si impegnano sul territorio e rendono la nostra città, Lucca, Capannori, tutto il territorio, e sempre più in espansione perché stiamo andando in tante altre province della Toscana, un posto più vivibile per tutti e più consapevole. E questo è per me una grandissima gioia, poterlo testimoniare, poter essere un po' una voce, un megafono di questa bella iniziativa. Quindi per me esserci oggi è gioia. Adesso iniziano anche gli sbandieratori. Andiamo a fare questa marcia in più! Rimaniamo a Capannori, ci spostiamo di poco, andiamo al liceo Majorana per la festa del progetto Ambientiamoci. Al liceo scientifico Majorana di Capannori, mattinata dedicata al progetto Ambientiamoci, giunto alla terza edizione ed organizzato dal Centro Cultura dell'Università Cattolica in collaborazione con la Fondazione Toniolo. Presente anche l'azienda Lucart, una delle maggiori realtà nel settore cartario a livello internazionale. Oltre al Majorana, il progetto coinvolge il liceo musicale Passaglia e l'Istituto Pertini di Lucca e mira alla promozione di stili di vita basati sul rispetto degli altri, dell'ambiente e di se stessi, con focus sulle problematiche ambientali, locali e globali. Per noi anche quest'anno, questo progetto che si è realizzato durante l'anno con incontri in classe e uscite sul territorio, è stata una sfida, anche perché i protagonisti sono i ragazzi, ragazzi che desiderano essere ascoltati, dire la loro, e saranno gli adulti che risponderanno a quello che i ragazzi chiedono. Presente alla mattinata anche l'ex preside del liceo Majorana, Luigi Lippi, sotto il cui mandato è partito il progetto. È un'iniziativa di tre anni fa, siamo arrivati a costruire una sensibilità e una consapevolezza già di buon livello, anche con altre scuole, l'auspicio che comunicherò agli altri e che poi questa consapevolezza cresca e diventi anche la possibilità di dare gambe in un'economia circolare che sia non solo sostenibile ma realizzabile. Giulia Pasquini ha portato l'esempio della Lucart come azienda che mira a mettere in pratica la cosiddetta economia circolare. Per i ragazzi è molto importante vedere e toccare con mano certi concetti. Se ne parla scuola, si fanno dei percorsi formativi, ma poi è importante andare sul territorio e vedere che ci sono delle aziende come la Lucart che riciclano e recuperano i materiali che loro come buona pratica hanno recuperato. Quindi è importante anche condividere con le scuole e con i ragazzi buone pratiche e quello che si può fare insieme per l'ambiente. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Fulcro del festival è il villaggio medievale con i suoi banchetti dedicati ai tradizionali mestieri ma anche con musica e dimostrazioni. Tra le varie attività la battitura delle monete, la ricostruzione di un antico forno da pane su ruote e il suono degli antichi strumenti musicali. Non mancano ovviamente le rievocazioni dei tornei e delle danze medievali e i corteggi storici per il divertimento e l'interesse di grandi e piccini. Si replica domani dalla mattina fino alle 21. Si da stamattina ho visto parecchi turisti stranieri ma anche di Lucca, ecco cittadini di Lucca e sono abbastanza contento a vedere dall'afflusso. Quindi speriamo anche oggi pomeriggio che continui qui si e domani uguale con le nostre attività, con le nostre bancarelle, gli hobbisti, con tanti spettacoli che ci saranno sia oggi che anche domani. E domani avremo anche una gara di balestra manesca. Attenzione perché la rievocazione medievale c'è anche a Monte Carlo, è iniziata oggi e prosegue domani. Monte Carlo ritorno al Medioevo con figuranti, giochi, musica, la compagnia balestrieri di Lucca, il gruppo dei falconieri e i ristoranti, gli esercizi del posto che proporranno cibi tipici del Medioevo. Un'altra notizia, un premio che viene assegnato a Paola Massoni al Teatro Roma di Castagneto Carducci nel corso di Etrusca Awards 2024, evento patrocinato dal Comune di Castagneto Carducci, da Livorno e dalla Regione Toscana. Paola Massoni riceve il premio alla carriera Unica Presenza della città di Lucca per essersi distinta sia come soprano sia per la sua attività come autrice di composizioni musicali e scrittrice di testi teatrali, saggi, romanzi, poesie e racconti. Complimenti quindi a Paola Massoni. Vi ricordo anche l'appuntamento di domani, domenica, al Teatro Accademico di Bagni di Lucca con Enrico Galiano che presenta Geografia di un dolore perfetto. Appuntamento al Teatro Accademico alle ore 16. E come ogni sabato chiudiamo con la rubrica dedicata al Vescovo di Lucca, Paolo Giulietti. Cari amici e cari amiche, buonasera. Duecento anni fa, proprio di questi giorni, un bambino di nove anni in un piccolo paese del Piemonte aveva un sogno. Un sogno che poi l'avrebbe guidato per tutta la sua vita e l'avrebbe condotto a fare della sua esistenza qualcosa di grande per sé e per gli altri. Quel bambino si chiamava Giovanni Bosco e il sogno di quella notte era quello di poter essere un educatore per i ragazzi, per i giovani, per i bambini, conducendoli al bene, conducendoli a fare della propria esistenza qualcosa di buono. Questo sogno l'avrebbe fatto sacerdote, educatore dei ragazzi, fondatore dell'oratorio, dei salesiani e infine Don Bosco, San Giovanni Bosco. I giovani continuano ancora oggi a fare dei sogni. Continuano a desiderare che la propria vita sia qualcosa di bello, di grande per sé, per gli altri, per il mondo. E i sogni dei giovani sono una risorsa preziosa che non va sprecata, che non va considerata solamente qualcosa che poi col diventare grandi rimane indietro, ma sono invece affidati a loro e anche a noi perché possano diventare realtà, perché possano fare di loro qualcosa di buono e di grande per sé stessi e per gli altri. Un mondo di adulti che non tiene conto dei sogni dei giovani perde qualcosa di davvero importante, che tutti noi adulti possiamo accogliere e custodire i sogni che i bambini, i ragazzi e i giovani continuano anche oggi a fare. Buona domenica a tutti.